Porca! Non so, lo so che siete qui, lo so che siete qui! Fia! Almeno non piove più. Almeno non piove più, sta a vedere. Sembra non esserci nessuno. La situazione? Potremmo passare di qui. Meno male ragazzi c'è questa modalità che ti dice quando c'è gente in giro. Perché se no, io mi sarei veramente cagato addosso. Merda, merda! Altri soldati! Meno male cazzo! Che è successo? Ho sentito un... Tipo un lamento. Della bambina. Che è successo? Cioè, addio. Se la bambina può anche starci. Sinistra o destra? Te guarda tu sinistra. Va bene, andiamo a sinistra. YOLO! Cazzo. Wow, wow, aspettatevi. Cazzo. Sì. Ragomiamoci. Si torna al muro. E mo? O fa... Fammi vedere dove siamo. Annarnia! Minchia, che città di merda. Bene sono andati. Ora scelisci che cazzo sei infetta, bambina. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, eh, Tess? È che... Quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ah, certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io! Questa volta sono d'accordo con Joel. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Va bene, Ganza. Speriamo. Eh, speriamo. Sottolinealo. Cinque volte. Sì, sembra che ti cadino addosso, vero? Fottutamente alti. Fottutamente alti, sì. E ti potrebbero cadere anche in testa. Sai che bellezza? Ho guardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena. Chi cavolo era? Tess, sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Eh! E dove vai? No, Tess, che cazzo stai facendo? Tess, che cosa fai? No. Cavolo, è un bel salto. L3? Beh, palazzo del governo. Sì. Ma io non l'ho visto! Speriamo di riuscire a scendere, ma io la vedo dura. Beh, ehm, no, 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 no. Dico di no. No! Te vuoi entrare qui? No, no, no. Questo è il palazzo? Guarda, aiutami perché il Dio Cristo la vedo molto brutta. A parte, ora che mi ricordo, quando sono i cattivi ci sono le spore. Andiamocene. È rilevante come cosa? Ma poi, ce l'avete proprio con me, eh? Ma nell'animo, eh? Ah, grazie. Il che vuol dire che mi serviranno e chissà per cosa. No. No. Che schifo, che schifo! No! Più o meno, vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli, non appena senti dei click, devi nasconderti. Prego, ragazzi, non fatemi andare... Non fatemi andare lì! Io, raga, lo faccio per voi. Veramente. Voglio esplodere. Apriamo questa porta, dai. Hanno detto che sono ciechi. E vedono tramite i suoni. Quindi devo starmene fermo. Apri! 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 Aiuto! Aiuto! Ok. Il fatto che ci sia quello lì morto, stacchito, in questo modo... Cioè, non significa che siano passati da qui. Merda! Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Non voglio andarci lì sotto. Ma mi sa che mi tocca. Occhia alla testa! Ok, è meglio con la forza. Ti prego. Non farmi scherzi. Apri. Dammi una mano con questa. Ok, c'è qualcosa che non va. Non è una porta normale. Posso spengere la porta? Por... Porca puttana! Porca troia! Oddio, come tu sei brutto! Come sei brutto! Come sei brutto! Oh, è stata tolta! Puoi dirlo! Prendi! Oddio, vattene, ti prego! Sono orribili! Che cazzo era quella roba? Ma per creare che cosa? Per creare? Che cosa? Un coltello? Rimettiti in sesto. Ok, sì. Faccio un coltello, va bene. Dove mi hai messo il medico? Fra! Ah, mi ha dato la roba per farlo! Ma Cristo, ma ditelo! Mio Dio, raga, vi giuro che se non me lo dice il gioco come fare, non ce la fa, non ce la posso fare io. Mi dimentico sempre come si gioca. Oh, accidente. Ah! No, 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 raga. Io andrei dalla parte opposta. Direttamente dalla parte opposta. Che cazzo fai, eh? Che cosa? Cosa hai visto? Morto? Che cosa? Te hanno assalita? Te hanno assalita, piccinina? Te hanno assalita? Io non... Io guarda, sto zetto per non incazzarmi. Non è più... Fammi salire, vado a controllare. Via! Ora, mi raccomando, fammi salire. Via libera. Amazing! Clicker! Guarda, via, via, via. Dio, c***o. Porca troll. No, raga. Raga, no. Raga, no. Raga, no. Quanto sei brutto! Quanto sei brutto! Io vengo con voi, eh. La bottiglia fa più rumore. Il mattone ne fa meno. Mi tengo la bottiglia. Girati verso lì. Ti prego. Bravo! Ma in tutto ciò, ragazzi, io dovevo andare. Ah, qua su. Dio Cristo! Fatto. Ellie, stai bene? Appena a farmi l'addosso. Sto bene. Dai, vai. Non ti sento, no. Non ti sento, non ti sento. Stai facendo. La tromba delle scale è... Perché ti sei bloccata anche te a parlare? Ma... Più rumore di così si può fare. Sono loro. Non facciamo rumore, minchia. Ma poi c'è un rumore di pioggia se faccio così. Se faccio così, no. Rumore di pioggia. Così, no. Eh! Triggio la pioggia, raga. Ah, perfetto. Abbiamo solo cambiato stanza. Mi garba. Nuova arma, rivortella. Per selezionare le tue armi. Ah, che figo! Ho una nuova arma, ok. Cosa sono stella mentale? Gli sentite questi rumori? Runner. Vado a controllare. Oh, rimani con la ragazza. Ma che cosa mi fate affrontare? Ma siete pazzi in culo? Ma no. No, raga. Sentite YOLO? Detro di me, è vero. Ok, no. Mi aspettavo un jumpscare più grosso. Vai, scambialo. Porca puttana. Non venire qua. Non ti azzardà. Porca... Lo so, lo so che siete qui. Lo so che... Via! Corri! No, no. No, ma perché? Hanno ancora la vista. Avvicinate adesso con estrema cautela. Cristo, però. Piano. Dormi. Dormi, frate. Dormi. Bravo. Così si fa. Sparati, ammazzati. Che? No, 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 no. C'è anche questo. C'è anche lui. C'è anche lui. Va bene. Ti tiro un coso nelle palle. Va bene? E te muorici. Bastardo. Minchia. Ma che è questo? Ma non è effetto. È normale lui. Bene, scendi. Ho fatto tutto io comunque. Come sempre, bella. Dovevo usare i mattoni in tutto ciò. Io invece li ho fatti fuori così. Va bene. E dove andiamo? È l'unica mi pare da qui, no? Infatti, si va qua su, raga. E vabbè, dai. Tiratemi fuori anche Gesù. Tanto ormai le ho viste tutte. Stavo pensando, quando saremo tornati potremmo prendercelo un po' più con comodo. Vuoi prendertela con comodo? Intanto arriva, sciviva. Vai, vai. E tu non mi hai mai dato letta. Beh, questa volta lo farò. Non ci credo finché non lo vedo. No, ho capito che ho detto che l'ho vista tutte, raga. Però non è possibile. Dai. Cristo di un Dio. Ma poi, quando c'erano quelli lì, almeno i runner o quegli altri, non dovevano esserci le sfore. Perché adesso non c'erano? Vabbè, evidentemente abbiamo capito che mi vogliono far prendere un colpo. Un altro morto. Felicità. Guarda la manica. È una luce. Esatto. Questi ragazzi stanno andando male sia dentro che fuori città. Speriamo che ci sia qualcuno vivo nel luogo stabilito. Andrà tutto bene. Ora è vivo. State a vedere. Usa la molotov per uccidere i tuoi nemici contemporaneamente. Ho una molotov, raga. Gli ho dato fuoco. Perché ho acceso una molotov? Non la voglio adesso. Giustamente, accendiamo una molotov e mettiamocela in tasca. Un po' di... Ma parla un po' più forte. Magari ti sentono. Perché deve essere attaccata a me questa figliola? Ok, farla andare laggiù. Questa, passala senza troppi problemi, per favore. Ma adesso sei imbeci... Io non ho parole. Non ho parole per descriverla. No, 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 no. Stai lì. Stai lì. Non fare gli spasmi, no. Fammi andare via. Fammi andare via. Ok. No, vai via. Vai via. Bravo. Dove devo andare, raga? Ragazzi, ho un coltello per questo. Ho un coltello. No. Non ho un coltello. Bene. Eh, muori. Bronzo. Stai zitto. Bravo. Impressionante una sega. Fammi andare via. Cristo di un dio. Fanno salire le scale sti dementi? Fanno? Fanno? Grazie. Grazie. That's the case. Sure. Hello.